L'eccellenza della produzione vitivinicola del territorio veronese è tornata, non esagerato dire di prepotenza, nel mercato del Benelux e in quello belga in particolare, con una crescita dell'export del 18,4% nel primo semestre di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2013. Per stabilizzare, per incrementare il più possibile l'export in questo settore, la Camera di Commercio belgo-italiana a Bruxelles e la Camera di Commercio di Verona hanno approfittato del semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea per stringere un accordo. Il Belgio è al 14esimo posto per le esportazioni della provincia di Verona in termini di vino e che noi contiamo, grazie a questo evento, di poter far salire ancora il Belgio, quantomeno annoverarlo fra le prime 10 esportazioni nell'ambito mondiale per i vini di Verona. Teniamo sia una grandissima opportunità per le nostre aziende vitivinicole veronesi che possono sicuramente presentare la loro eccellente qualità dei vini. 80 buyer importatori belgi si contenderanno 67 etichette di vini veronesi di altissimo livello, non per fare una semplice promozione, ma per acquistare il vino che speriamo si trovi presto nelle tavole degli 11 milioni di abitanti del Belgio.